effetto abbiamo iniziato per marine il benvenuti a tutti ciao 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 e ciao stefania che farà una traduzione italiano romeno romeno italiano questa parte no anzi no questa parte si da stefania stefania ostafaco traducerti in italiana romone stessi e romone sta in italiano 5 4 3 2 chi lo vede e come lo vede cina vede scicco mal vede allora io vedo un marinella che con praticamente è attirato da una parte all'altra e bambino ed è tirato da una parte dall'altra da due bimbe e io il vattene marinelle che sono capirci i est e traste o parte scite alta detto fettizie che a loro volta sono tirate da due figure incappucciate nere iel la rondo lor sono attrasse da due figure con capicciono negro anche a me viene marinella da bambino ma in una vita precedente lui è davanti a un macellaio che ha il grembiule sporco di sangue questo macellaio sta estraendo le viscere agli animali e dice a marinella che lui deve fare la stessa cosa ci spune la marinella se fa che ci lascia il lucro non vorrebbe però lo farà marina l'unica nome del progetto di marinella monica il nome del progetto di marinella ansel e gretel ansel e gretel il progetto di marinella elena progetto di marinella divisione e abbandona te spazzire sci abbandona prima elena poi monica vibrazione 3 vivere 3,5 miliardi monica da monica se sei qualcosa di differente lo dici su un poco di più un poco di meno molto di più molto di consapevolezza 123 o sotto a 12 c3 consapevolezza anima su fletta 41 4 6 1 vite precedenti viette ricotte 2345 domi tra i sud e patro 65 cervello crea 8.6 hot pont chasse suscettibilità ipnotica suscettibilità te hipnotica 48 per cento patrose shop la sud ok elena entità eteriche elena entità eteriche allora c'è questo direi che è un caprone io stia cesta capra o capro un capro i seduto su una sedia molto accogliente careste ascesa per un scan forte primi tor ea un tavolino davanti c'è una suzza fatta su cui sta ha delle carte in mano che sono dei tarocchi share in mananiste carzia taroccare le pune pia ma suzza come si chiama con se miste toroni 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 secondo un universo alto e la universa poi a poi poi appare un frate scia poi a giù se arata un calo gara col cappuccio alzato coca pesce non ridicate queste cap ea un mano in mano un rosario e sta dicendo il rosario sta pregando si are in una biluzzele per lanci show pecare il sero aga sempre secondo universo totti in alto e la universa poi poi c'è una mantide tu poi este o mantis mantis gli esteri mantis da è particolare perché al al viso che è una via di mezzo tra quello di una mantide e quello di marylin monroe access quanti si este particolare per truccare faccia giumate mantis giumate merlin moro e poi c'è strano perché è un leone ma con la testa di odino scia poi este un leu cuca paul lui odino odin il grande capo shefful monica qualcosa di uguale diverso qualcosa da aggiungere monica che fate di ferite dei bus di plus avevo visto una strega bestana che hanno sotto il nostro vorrei situare ceduce che porta il carbone ai bambini cattivi ceduce carbone la copierai secondo universo alto e la universa va bene monica di entità mentali sono tre sono tre la prima è vuoto assoluto primo lieste gol l'absoluto livello sei lui ha sempre sentito un vuoto interiore lui ha sentito un gol interiore mereu e si accentuava a ogni abbandono delle sue donne e dentro questo vuoto c'è anche una dipendenza affettiva e dentro questo vuoto c'è anche una dipendenza affettiva dalla compagna di turno della femmina di rand l'altra entità mentale credo livello 4 si chiama asinello c'è l'altra entità mentale di livello 4 si chiama magrusha fa riferimento a quando era studente e non andava tanto bene a scuola ma è rimasto questo marchio di inferiorità di perdente di incapace e la terza è livello 5 si chiama fumo lui per forza vede svanire tutti i suoi sogni d'amore tu face che se sgretto l'asato tv sletale di tra coste di obbligatorio che vestire a pasta un cuore che va in fumo si o inima c'è margine non fu e anche un progetto di famiglia che va in fumo si proiettori si proiettori famiglia e c'è merce in fumo elena qualcosa di simile uguale c'è passiamo nato regal si molto simile tutto infatti vedo proprio che allora diciamo la prima che aspetta com'è che la chiamata monica vuoto assoluto ok è come se quello che vedo io è come se lui pensa che questo vuoto sia riempibile solo da figure femminili 10 elena vede scia prima gol l'absoluti spune che tu cresca accelgo il pote soffie un plus d'arte femmine non solo le compagnie di vita ma anche le sorelle e la mamma non snudo al femmine di inviazzata darsi sorori letale sci mamma fin da quando era molto piccolo e quindi era il forte mic e comunque sia l'entità mentali che le interferenze si basano su questi due aspetti proprio limitare la sua possibilità economica e la presenza del femminile nella sua vita se basese pe aceste due treburi care sono limitare la finanziaria economica e la presenza femeilor in viata ta così da tenerlo sempre in tensione e non sentirsi libero di essere a sciacca se tizzi namere un tensione sanote semplici adatta il liber che esiste ok chiamiamo nel cinema il figlio e chi vuole venire chiamiamo cinema figuri cc ne pressa fina se io vedo anche un altro uomo più o meno della sua la sua età io ho fatto un barbat cam 10 giusta ata non so se fratello o un amico perché sono molto fiatati non so se il tuo fratello o un amico no e o meno al nostro fratello si ok monica cosa vedi invece che il figlio evento con un suo amico monica vede che fiolta giuliano ha venito in cinema compriete e il sogno lo vedo come un ragazzo un po fragile io ho il fatto che si un bayat un pic fragile chi il figlio o l'amico scusate il figlio il figlio se anche io lo vedevo già prima molto chiuso fa difficoltà comunicare sci o lampa sotto una inter difficoltà tede a comunicarsi forte in kiss va bene causa esoterica monica del blog economico da sempre casa esoterica a blocco le finanziarie detinto da una abbiamo già visto che questa è un po un'entità mentale collettiva della romania e del popolo romeno hanno su queste entitate mentale a popoli romanesco vediamo quanto c'è della storia di marinelle e quanto c'è di della il suo progetto hansel e gretel è incentrato intorno alla povertà infatti sono due fratelli molto poveri che vengono abbandonati dai genitori loro non è che sono stati abbandonati dai genitori ma non sono stati seguiti in maniera giusta dai genitori ei non sono stati abbandonati dai genitori e certamente hanno vissuto nella povertà e poi l'altro elemento è la vita precedente che è arrivata all'inizio e poi l'altro elemento è la vita precedente che è arrivata all'inizio dove tu ti inseghi che faccio miserea di macellare fără să fii vrut un po' privata e senso di colpa che lo porta anche a condannarsi all'infelicità economica e affettiva nelle vite dopo poi anche le entità vedo la Befana seduta su un sacco di soldi e il caprone che gira la carta il povero e il caproio che rieponde la carta il povero regra l'intello è un sacco di immagini l'entità mentale azinello dice che un asino non può essere ricco l'entità mentala magarușul spune che un magaruș non può essere bogato L'entità mentale vuoto assoluto dice che i soldi finiscono nel nulla per lui. Si entità mentale gol absoluto spune che i bani si educano in... Scusa Monica, dove vanno i soldi? Finiscono nel nulla, nel vuoto. Si educano un gol, un nemico. Si termina. E idem l'entità mentale fumo, i soldi volano via. Si entità mentale fumo spune che i bani si educano in un ramal. Elena, vedi qualcosa di simile? Si, mi fa proprio vedere una sequenza di immagini che si collegano tra entità mentali e interferenze eteriche. E vedo che... Entità mentale, ci interferenze le care, che stanno insieme Elena, perdonami. Fanno una sequenza, si, proprio di immagini collegate. Fac, impreuna, fac o sequenza di immagini che ne intrerupte. Che riproducono la vita di Marinelle da quando è molto piccolo, fino ad oggi. La prima immagine è proprio il caprone, per fermare Marinelle. Usa queste carte e le gira per creare degli ostacoli dove Marinelle può inciampare. Care crează obstacoli in viața ta cu acele cărți tarocuri, sia per quanto riguarda la salute di quando era piccolo e adolescente. Si, pentru sanată, scusate, ha creato, ha creato, inciampo, come si dice? Ostacolo. Ostacolo, da, si ha creato obstacole și înseamnătate, tecundirai mic. E sia per farlo abbandonare dalle donne. Și cărțete abbandonată și femeile. E per terminare i progetti che lui iniziava. Și te împie di casși pentru proiectele pe care tu le începeai. Con questo ci sono anche le entitea mentali, tutti e tre. Anche le tre entitea mentali. E poi vedo proprio l'amantica de Meryl Monroe. Și și acea mantis, Meryl Monroe. Che blocava l'incontro di Meryl con le donne. Deci toți împreună se blocau, obstacolau întâlnirea cu femeile. Prezentandogli donne che sarebbero state sbagliate per lui. Și ce împie presentată timpul femeile care erau grescite pentru tine. Monica. Să, pentru că Elăna dă l'amantide, eu lo dă la strega. Strega de fama. Elăna dă l'amantide, eu păsă la socis la vreșitoare. Epatite B, causa fisica ed esoterica. Sospetto nella fisica che si ha il dentista. E causa esoterica Monica. Epatite B, causa esoterica și fisica. Este un suspec, epatite, este din causa dentista lui. E quello che vedo è proprio il fegato che va in fiamme per la rabbia. Ceea ce văd este ficatul care a luat foc din cauza supărării. Lui e arrabbiato verso la vita. Lui este supărat cu viață. Elă. Ma questa rabbia la dirige sul suo corp. Și această supărare tu hai dirigato pe corp tău. Elăna? Ceea ce vedo collegato questo andare dal suo dentista în quel moment. Eu vădă legătura un de il sadus la dentista în acel moment. E come se quella rabbia che vede Monica. Căși comă ce a supărare ciava su Monica. Fosă stata molto forte per un evento successo prima di andare dal dentista nei giorni precedenti. la fosse forte puternica înainte să merg la dentista înainte să merg la dentista înainte să merg la dentista înainte să îlă la precedente trecută înainte scusa. tutto e molte a ciò a superare posso aggiungere una cosa di seguire possa sfruggerà un plus da in questo caso l'epatite non è stata trasmessa sessualmente una cesca se è partita nuova strasmissa sexual però è come se lui avesse messo un marchio un'impronta che lui sarebbe stato tradito da rieste cash con tu hai si puso un o marc un descritto onde scrivi cosa fitto tempo tradita cosa che è avvenuta dopo due anni c'è c'è santa un plato pado e non ho capito l'occhio scusa è accaduto dopo due anni perché nel 2009 assi lui lui venne lasciato da a santa un plato pado e anche in trocando minore per tenete alla sat de facto prima compagni ok andiamo quel giorno già andiamo quell'anno 2009 2010 la compagna se ne va mergem la cellan nomi e domino domi se c'è un deconte proprietà natal seduce della fine e più o meno da questo periodo la sua memoria a breve lungo termine è sempre peggiore she can manace la steam memoria cala scorci la lung team se deteriora sa beh il nasi si è un gioco molto coordinato tra il caprone e la strega marylin visto un shock forte coordinato intrecco pro si vracitoria marylin merlin 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 in qualche maniera fanno in modo che lui parte dal senso di colpa di essere lasciato perché è sbagliato il fatto che lui non si ricordi le cose accentua avalla si accentua il fatto che lui sia un asinello si accentua si fatto il che tutte creso in magaro spente il fatto che non traduce aminte di treburi quindi è colpa sua di essere asinello quindi di essere lasciato cash com arfi in attacca este magaro si crede a te la sua femmina monica e mi fa vedere la compagna che esce dalla porta di casa e con questo gesto cancella in un attimo tutta la loro vita insieme ok monica questa donna viene nel cinema è stata colosci fiore lì è impegnata in un'altra vita di este forte occupato quarta piazza va bene causa esoterica monica della polmonite e se vedi anche la causa fisica fa questa fagna della polmonite causa esoterica a neonomi e neumoni e neumoni e bello che tessi dimenticato termine l'attuali in qua ho messi talmente da tanti anni si no perché sembrano sono uguali non per altro vai monica allora mi fa vedere i due polmoni che sono gli organi di vita come i suoi genitori che gli hanno dato la vita e lui ha un legame molto triste con questi due genitori per questo i due polmoni si ammalano lui non sa come rendere il rapporto con i genitori meno triste più gioioso tu non sai come se faccia cara porto il coparenti testa fine ma i pozzini triste va bene bene vabbè l'abbandono delle donne è una maledizione che cosa abbandono il femmello riesto un blestem sau ceste quello che mi fa vedere che è più c'è le donne lo abbandonano c'è c'è voti e stecca femmella di lavanda nasa perché lui sente il vuoto senza le donne intorno pentru că el simte golo il fara femmella un giro lui si sente responsabile di questo abbandono te simte responsabile di acest abbandono quindi la la sua ps vorrebbe che lui superasse questo senso di vuoto questo senso di colpa 10 parte a subliminare su fletul d'oreste mult ca tu sarei uscessa abbandonese a chest acest sentiment mi apparsa una vita precedente hanno vassuto viazza tricuta dove lui viveva in questo orfanotrofio maschile onde tu tre entro un orfelinato e non mai dei paesi gestito da frati gesti dei calugari e dove c'era era molto rigido e molto freddo e l'essenza femminile era proprio assente un dei era forte fricci pozzin sentiment monica si rovedo anche collegato questo senso di vuoto e senso di colpa alla vita in cui lui è stato costretto a fare il macellaio monica vedi la fiamma al momento attuale io la vedo lontana ma la vedo in questo momento io ho vado parte da rovado però tipo pakistan in pakistan quindi questo vuol dire che il suo intento e la sua comprensione di questo argomento è ancora lontano c'è ancora un po' da fare sì ma è un po' di treaba dove vedi la sua dipendenza affettiva come energia nel suo corpo energetico? un corpo energetico dove vedi l'energia affettiva presente quasi nel corpo eterico che viene a contatto con i corpi eterici delle altre donne ha proprio un corpo eterico che viene in contatto con gli altri corpi eterici delle altre donne le altre donne respirano questa sua dipendenza affettiva? le donne respirano questa sua dipendenza affettiva e non sono disposte a colmare non sono disponibili perché è un'unica a ces gol Monica c'è la fiamma di Marinella? Monica c'è la fiamma di Marinella? non la pakistana esiste il progetto di Marinella l'intenzione di arrivare a questo livello così ambizioso? esiste il progetto di Marinella l'access nivel ambizioso di Iraq si flacera perché ok allora facciamo una cosa chiamiamo quella che invece sarà facciamo treavo es faccio una treaba o che non piace a care va fi quindi non la pakistana ma saltiamo già fino a quella vera il percorso di raggiungimento di questo obiettivo sarà solo di Marinella? ma siccome il tempo non esiste noi possiamo già andare alla conclusione del film ma siccome il tempo non esiste noi potremmo se ne docemmo direttamente l'ha sforsito il film lui al momento attuale mi sembra tipo una ragazza madre un access momento mi se pare che sia un amico con copilio vedo che ha a che fare lavora con i tessuti la vedo con questi tessuti seta come si lavora lavora con i tessuti ma fanca lucrasco tessutori con seta sic ma matasse ma c'è su de matasse circa in inglese si va bene a vedere questa questo quadro no Marinella si sentirà male access cadro access c'è un po' vestito un'acqua ma credo che ti senti già blocco economico bloccaggio economico entità mentali della Romania entità mentale della Romania tante entità eteriche brutte e cattive tante entità eteriche reali si urte lo stesso elementali si entità elementi minzi non abbiamo visto gli impianti non ci interessa ma saranno sicuramente importanti non va sotto in plant orle da non è interessante dar credo assente importante che cosa facciamo nel senso prima di andare ovviamente al cluster che facciamo sempre alla fine c'è faccia una intenzione c'è una cluster che sta cercare la sforgita cosa vuole dire l'anima di marinella a marinella c'è per essa spuna parte subliminale su flattori a lui marinella la marinella la tua informazione interna di completezza informatiata interna di essere completa di essere completa di completitudine si completitudine deve emergere e diventare anche informazione esterna quindi essere consapevole di essere consapevole che tu basti a te stesso questo è quello che la ps vuole dire a marine con fatica hai scelto di andare verso la meta mi fa vedere una funivia che sale mi fa vedere una funivia che sale mi ha dato un teleferic che urca molto lentamente forte e lente ma in questa lentezza lui sta comprendendo sempre di più ma in questa lentezza mi spiace non so come si dice quella scusate lentezza in questa lentezza scusami ogni tanto questa funivia fa degli scossoni molto forti che ti ho dato accessi delle ferie che face scossoni dà dei movimenti si scutura si scutura ok poternici ma lui è sempre più determinato a arrivare in cima dar tu est forte d'eternaca s'aggiungo un vero ma com'è un asinello da com'è un magaroche chi ha deciso che è un asinello? lui chi ne ha deciso che tu esti un magaroche? tu suffleto la tua anima suffleto Elena dimmi dimmi Elena spune si si è proprio questo no? fargli credere a tutti i costi di non essere in grado da fate tot cas serate che tu non è scappabile mettendolo davanti a azioni ed esperienze in quella direzione proprio per far sì che lui potesse integrare la sua forza mi fa vedere come se ci fosse una barriera davanti a lui mi aratò mi aratò come se fosse una barriera davanti a ta mi aratò come se fosse una barriera davanti a ta mi aratò come se fosse una barriera davanti a ta mi aratò come se fosse una barriera davanti a ta mi aratò come cosa da giunge si 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 che l'unica via non è quella che che gli viene presentata a noi este singola strada a ceacaretsi se presenta ma che lui è talmente grande che è in grado di trovare la strada alternativa che è in grado di trovare la strada alternativa Monica dimostra che va più velocemente sulla funivia ma mi ha detto che è più velocemente sulla funivia Mano a mano che si libera di ogni entità mentale Non è vero che ogni storia debba andare in fumo Non è vero che lui è solo e che ha bisogno di altri per completarsi Quindi non ci sono maledizioni questo che stai dicendo Monica Però Monica ci sono delle entità forti Come facciamo? Ma Monica sono entità poterniche Come facciamo? Marinella ha avuto la sfortuna di avere delle entità forti La sfortuna non esiste È una sua scelta voluta Anche se è difficile da comprendere, no? Nell'ottica umana È la sfida dell'anima Il primo passo mi fa proprio vedere che il primo passo dove a cui lui in realtà un po' è già arrivato È proprio integrare all'interno È che le scelte sono tutte sue Che tutte le legerle sono alle tale Che lui si è scelto questi ostacoli Che tu hai alessi a queste provocare, a queste ostacole Per arrivare dove lui vuole arrivare Che si possa aggiungere dove tu trebuoi s'aggiungere E questo puntualizza il fatto Che lui sa di essere così forte Da poter superare questi ostacoli Che si possa treci peste aceste provocare ostacole Che apparentemente sembrano insormontabili Che tu crei che non hai potuto essere trecce È proprio il suo andare a ricerca A ritrovare Il Vai avanti così capisco Il concetto Scusa Proprio andare a ritrovare La sua grande autostima Che lui sa di avere Decena c'è Sfell poste D'Usa Gasseste Autostima Autostimata Cosa vuole fare Monica? È giunta l'ora Di Avendo capito Di cambiare Dec Da che A come A inseris Cevres Faccia Sì È giunta l'ora Di andare al cluster Immediatamente A Sons Timple Che si tocca La cluster Immediate Come ci va? Commerce Come se Mettesse una sorta di accelerazione A questa funivia Casi come accelera Forte tare A cabina Cateleferico E arriva in un attimo Al cluster Sceglie Un momento La cluster Cosa c'è lì Elena? C'è staccolo Elena Fa vedere tutto Un percorso Illuminato Da Tante torce Che lui accende Col fuoco Mi arata Un percorso Care Este Columina De Multe Come ar fi Luminar Sau lanterne Pe margine Proprio per Mostrare Per indicare Che finalmente Tutto è alla luce E che finalmente Ne è consapevole Sforsiti E Quando in domina il cluster Si vedono Come se fossero Dei piccoli quadretti Di vetro satinato Canse Illuminato Cluster Se Mi Cosa Sticla Opaco Opaci Sticla Opaca Che erano quelli Che oscuravano La La realtà C'è Nozzaro Taclar Realitate Io In casa 9 Ti Arun Quanto Arun Quanto Vuole Se Brea Come Li toglie Come I Arun Sempre Con Questa Torcia Crea Un Quadrato Verticale Qua Cesta Torza De Acufoc Faccio Un Pat Un Pat Vertical Con L'altra Mano Fa Un Gest In Questa Direzione E Porta Tutti I Vetri Dentro Scuccia L'altra Mona Faccio Un Gest Dina Far Un Spray Cluster Sharon 14 Da Testicli Monica Cosa Crea Qui Il Nuovo Marinello Ex Asinello Prende Un Pennello Molto Grande E Dipinge A Spirale Un Ad Eternum Giallo Ia O Pensula Foarte Mare Si Deseneaza Un Ad Eternum Galben E Molto Brillante E Puls Is Forte Stralucitor Si Pulsias E Marinello E Molto Soddisfatto Del Suo Deterno Si Marinello E Forte Satisfacute E Ad Eternum Ce La Facute Avatar Si Vai Vai Inizia A Sentirsi Bravo E Molto Amabile Quindi Amabile Anche Per le Donne Eh Si Amabile Si C Femile Da Avatar Avatar Un Piccolo Poverello Tutto Strava C S Un Mic Sarà Un Uomo Vestito Di Stracci Un Uomo Vestito Di Stracci Un Umbra Cat Un Umbra Cat S Trenze Ma S Si Scarcato So Perché E Una Cosa Che Era Qui A Posto Del Dell' Uomo Se Lo Toglie Dell' Avatar Elena C'è Crea L'O Lui Avatar Lui Se L'ha Tolto L'ho Stato Allendo Ha Bottato Tutto In Un Portale E Crea L'ha Tolto La Desfoco Ci Scusami Non Portano Troppo Arta Portano E Qui Ha Creato Un Vaso Un Vaso Che Parte Di Una Dimensione Poi Man mano Che Si Alza Diventa Più Grande Scia Poi Ha Creato Un Vas Care Pornesce Della Dimensione Ci Define Tocito Ma Da Qui Esce Questi Fili Di Energia Molto Potente E Luminosa Dincare I Esce A Ciasse Energia Forte Poternica Si Luminosa Monica Vedo Che Si Sta Portando Davanti A Uno Specchio Te Duce Tu Petine Te Duce In Fata Una E Glinsi Che Fa Si Ce Facce Si Guarda Piacendosi Te O Is Latine Si Splat C Da Amare Un Uomo Da Amare Un Barbato De I Vita E Mi Amo Si Ma Io Best Si Si Vedo Che Vede Proprio La Differenza Rispetto A Prima No Tess Differenza De Cercer Rain Inte Prima Era Un Uomo Che Subiva Il Femminile Prima Era Un Home Care Subiva Non Mi Viene Subiva Femmelle Che Era Succube Che Era Sotto Il Sotto Con Le Donne Mentre Ora Vede Che È Forte A Sufficienza Per Poter Avere Un Rapporto La Pari Si Accum Ma È Supposta Ries Poterni Desto Sufficiente Se Possiamo Rapport E Calco Femmelle E Quindi Ora Si Sente Che Può Creare Insieme A Femminile E Non Si Accumato Sims Che Possa Crea Sempre Una Femmelle Con Femminile E Non Più Subirlo Si Cassano Mai Fesso Possa Monica Nuova Frequenza Monica No Frequenza 252 Doste Cise Scito E Come Prima Elena Se Qualcosa Di Diverso Lo Dici Se No Nuova Consapevolezza Monica Consapevolezza E In Romeno No Consapevolezza 173 O Sotashap Esercitrei Nuova Livello Di Anima No Nivele De Soufflette 65 Scesi Cinch Le Vite Cote Viet 1807 O Mio Sotashap Elena E Elena E Rai Dentico Numero Ed Identic Numero Cervello Creer Nove E Mezzo No No Sismantate Suscettibilità ipnotica Suscettibilità Capacità Di Andare In Capacità Di Taduce In Hypnosa 68 Ok Questi sono Valori Da Asinello Lui Sorride Con il suo Bel Sorriso E Dice No Per Niente Certo Anche Solo Il fatto Che Marinelle Sia Arrivato A Questa Sessione Fa Già Di Lui Qualcuno Di Sessione E Se Ce Lo Dimostra Adesso Alzi La Frequenza A 500 Così Sessione Ne Demostrasse Pentru Caridica Frequenza La C Sotte E Come se Mentre Glielo Dici Lui Si Sente Mano A Mano Anche Più Seducente Io Posso Tutto Io Posso Tutto Lo Dice Si Mi Fa Vedere Che Ha Allontanato Dalla Sua Mente Le Immagini Delle Donne Che Lo Hanno Calpestato Mi Ha Ratt Che Dil Minte A Lui Ho Esce Tutte Femigli Alla Care Te Ho Posso Ho Posso Picciare Pettine Con Rabbia No Con Superare No Con Saggezza E Lo Vedo Camminare Tranquillo E Molto Sicuro Que Intelligenza Sce Te Vot Che Ombli Forte Sigur Pettine Sce L'inistit Nessuno Può Più Calpestarlo Niente Mai Pot Suppone Se Mi Fa Vedere Che Tutta La Sua Vita Prima Era Quasi Come Se Fosse Un po Confusa Merata Că Toată Viața Lui Înainte Era Ca Cascum Era Un Confusie E Invece Ora Se La Guarda Tutto Ordinato A Un Ordine Logico Dove Lui Si Sente A Su Agio Un Detto Sins Forte Bene Elena Messaggio Di Marinelle Alla Sorella Elena Messaggio Lui Marnella Sora Lui Grazie Per Avermi Mostrato Questa Via Molto Mestre Trocate Mi Ero Tata Casta Strada Monica Non Potevi Farmi Dono Più Grande Non Potesse Faccio Don Mai Mare Monica Messaggio Al Figlio Monica Message La Fiu Ti Starò Molto Vicino Est Voi Star Forte Prope Lo Prende Per Mano Gli Dice Vieni Ti Mostro Come Si Fa E Gli De Manuzza De Mano Si Is Poi Hai Cas Sarat Con Sa Faccio Messaggio A Se Stesso Monica E Poi Elena Messaggio Lui Ass È Il Momento Giusto Per Me È Il Momento Il Potre Vite Pentru Mine È Il Momento Per Prendere Tutto Ciò Che Sino Ad Ora Mi Sono Negato Io Posso Prenderlo L'amore Il Danaro E La Gioia Io Posso Boccurile Iubire Sibani Perché Sono Meraviglioso Perché Sono Minunata Lo Vedo E Lo Sento È Così Il Vod Sib Queste Asha Elena Voglio Mostrare E Condividere Con Tutti La Mia Libertà La Mia Felicità Vraus Aracis Un Part Cotto Sfericere A Come Lo Vedete Io Vedo Seduto Sopra Come Se Fosse Una Piattaforma Rialzata Rotonda Io Vedo Cascum Ar Stapio Plattforma Inalzata Con Tanti Cuscini Con Molte Perini E Lui Seduto Con Le Gambe Incrociate Si El Cu Piciole Incrociate Al Centro In Mishlock E Cuscini Rappresentano La Sua Vita Serena Perini Rappresenta Viața Ta Fericità Li Mostra A Tutti Per Poter Condividere Si Tore Slatoz Ca Se Pote Se Vada Bene Facciamo Un'immagine Finale Creiamola Chiediamo A Marinelle Di Allungare Le Sue Braccia Chiede La Marinelle Inalzate I Braccia Lui Lunghe 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 A Forma Di Anello Longe 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 In Forma Un In L E Dentro Questo Anello Un Grande Abbraccio Tutti Gli Attori Della Sua Storia In Questa Vita Tutti I Parenti Tutte Le Ex Tutte Le Persone Che Gli Hanno Fatto Del Bale Del Bene Si In Acesti Nels Sunt Presente Toate Persone Tozi Attori Din Via Lui Cari Au Facut Bine Sau Rau Toate Femelle Si Tozi Care Sunt Presenza In Via Lui I Capi Al Lavoro Che L'Hanno Trattato Male Che Fittai Care Te Ho Trattato Le Persone Che Gli Hanno Fatto Capire Che Era Un Asinello Persone Le Care Ciao Te Ho Focuse Anze Le Se Cres Che Estrima Garo Sce Bonita E Questo Anello Ha Una Forma Di Cuore Accesse Nell'aero Forma De Enema Scusa Forma Cuore Poi E Lui Li Ha Accolti Lì Dentro Si Tu Lai Pus Pe To In Antro Perché E Proprio Riuscito Ad Integrarli Dentro Se Stesso Grazie Al Cuore Pentru Che Tu Hai Riuscito A Integrare In Tine Insur Molta Inimi Non C'è Dolore Ma C'è Insegnamento E Comprensione Non Mai Este Durere Doar Invatsatura Si Comprensia Io Ho Visto Una Cosa Simile A Quella Di Monica Io C'è Passiamo La Torace A Monica Monica Le Braccia Che Hanno Fatto Questo Enorme Cerchio Brazie De Lui Caro Facuta C'è Spare E North Cerca E Proprio Dal Cuore Di Marinelle Partita Questa Enorme Vibrazione Che Si È Collegata Al Cuore Di Tutti Si Exact In Inimata Ha Pornito Acesta Vibrazione Che Si Unite La Inimile Tutor E Quindi Tutto Il Rancore Tutta La Frustrazione Si Neutralizzata Città Terras Buonare Ashi Frustrazia Neutralizzata Sentendo Profondamente La Pace Sim Sin Profond Paccia Ok Io non l'ho fatta apposta Setoiete Ad Azinello Si Diventa Nello Eu Intenționat N-am spus Nimic Dar dacă La Azinello Luați Si Rimane Rămâne Si Ce Ce Este In Mishlo Col Cuvânt Lui Azinello Rămâne Anello Ce Inseamnă Inel Io Non l'ho fatta apposta Intenzionat N-am spus Nimic Non Non è creata Non è voluta Peraltro Si Si Accetto Questo Questa Questa vita Con tutti i suoi Pro e Conto E quel Si Che A Cel Si Ce A I Cuvânt Este Da Accept Viaza Cu Pro Si Contro Ceste N-am Deci Este Unda Si Si Inel Din Cuvântul Asinello Cosa mi dice Il tal proposito Monica E poi Elena Cens Pai Monica E Proprio Così Questa È La Chiave Este Es Es Exact As A Cesta Este Che Elena Elena Sono Stati Eliminati Tutti I Confini Di Espansione Di Vibrazione A Foste Eliminate Totem Marginal De Expansi Esci De Vibrazie E In Questo Momento Marinelle Ha Creato Un Ambiente Vibrazionale Scenaccio Come Marinelle Ha Creato Un Ambiente Vibrazionale Che Coinvolge Tutti Noi Siamo Qua Cenezione Pettoz Si Per Noi Cari Sentiamo I Tutti Assieme Vibriamo Molto Alto In Questo Città Sempre Una Vibra Forte Su Anacces Momento Benissimo Abbiamo Finito Am Terminata Grazie Stefania Bravissima E Grazie A Tutti Grazie A Voi Ciao